Bentrovati a tutti, questa è la seconda lezione del corso dedicato ad una serie di luoghi significativi di Bergamo e in particolare ad alcuni edifici religiosi che presentano caratteristiche interessanti o artistiche o di carattere storico. In particolare oggi ci occuperemo della parte alta del borgo di Sant'Alessandro e ci occuperemo di una serie di edifici religiosi, fra loro molto diversi per origine, per uso e per caratteristiche anche contemporanee. Il titolo è molto generico, in realtà i miracoli e le clausure a cui facciamo riferimento si svolgono in un arco di tempo molto più dilatato rispetto al Cinquecento, però mi sembrava un punto cronologico interessante. L'edificio di cui parleremo sono la chiesa della cosiddetta della Beata Vergine del Giglio, la chiesa di Santa Maria Assunta del Monastero di San Benedetto e daremo anche così un piccolo spazio alla ex chiesa di San Carlo, sempre nel borgo. Per iniziale il nostro percorso direi che è bene far riferimento a una caratteristica organizzativa, proprio direi amministrativa, della nostra città che dall'epoca medievale si è protratta ampiamente anche all'interno dell'età moderna. Faccio riferimento in particolare alle cosiddette vicinie, cioè un'organizzazione per quartieri, potremmo dire oggi, che aveva delle caratteristiche di delega di amministrazione e di gestione degli affari locali da parte del potere cittadino. Queste vicinie nascono in epoca medievale intorno alla chiesa di riferimento e il termine che le definisce infatti allude ai vicini che abitano, cioè intorno alla chiesa principale. E queste vicinie, che variano di numero nel corso del tempo a seconda dell'aumento dell'articolazione della città, si dovevano occupare di molti aspetti. Il principale naturalmente era quello di sostegno delle attività religiose nella chiesa, ma avevano anche importanti incarichi e impegni di carattere pubblico. Questo serviva naturalmente a creare un forte senso di comunità all'interno di queste vicini, appunto. Il luogo, come dire, lo spazio della città del quale noi ci occupiamo oggi ha delle caratteristiche particolari, perché è collocato in una zona di passaggio molto al limite tra la Bergamo Alta, la città antica, la città murata, e invece i borghi, cioè quella zona della città, quelle vie, peraltro spesso densamente popolate, che collegavano il centro storico con la pianura. Ecco, questo che è il particolare di un'opera di Giovanni Paolo Cavagna dei primi anni del 1600, una grande pala d'altare con i santi in gloria, che è collocata all'interno della chiesa di Sant'Alessandro in colonna, come molti di voi sanno, riproduce una visione dal basso, probabilmente dalla via Zambonate, da quella che noi oggi chiamiamo via Zambonate, dove risiedeva lo stesso Cavagna. Dicevo, una visione dal basso della borgo di Sant'Alessandro, che è il cuore, come dire, il luogo nel quale si svolgerà il nostro itinerario odierno. Ed è molto interessante, adesso non entro nei dettagli, però vedete spiccare in particolare il campanile della chiesa di Sant'Alessandro in colonna, che era la chiesa principale, la chiesa parrocchiale di tutto il grande ed esteso borgo. Il borgo del quale ci dobbiamo occupare oggi è il borgo Sant'Alessandro. In particolare noi oggi ci occuperemo della parte alta del borgo Sant'Alessandro, un borgo molto esteso, come sapete, del resto lo sono tutti i borghi cittadini, proprio per la funzione che avevano di collegare la città sul colle con la pianura. Un borgo esteso, protetto dal giro delle mura basse, dette muraine, istrutte, come sappiamo, nel 1900, anno 1900, e caratterizzato da una profonda differenziazione tra le varie zone del borgo stesso. Infatti se la parte bassa era ricca, fitta di abitazioni e di attività di carattere artigianale e imprenditoriale, perché è ricca di acque e di canali, e collocata anche in una posizione felice dal punto di vista orografico, quasi ai piedi della collina, il tratto alto invece del borgo era davvero difficile da percorrere, da risalire. Stretto tra l'altro tra il declivio del colle da una parte e le mura antiche, le muraine dall'altra. E quindi davvero ancora oggi è molto anetta la cesura tra i due spazi del borgo. Lo era in modo ancora più forte nel passato, tanto è vero che gli abitanti del borgo erano distinti in vicinie diverse, e la parte che a noi interessa, quella alta, era denominata vicina di Santo Stefano, poi ricorderemo perché. Ma osserviamo sulla mappa prospettica di Alvise Cima, per noi così interessante, perché pur essendo stata realizzata alla fine del Seicento, in realtà rappresenta la città come doveva apparire prima della costruzione delle mura veneziane, le quali infatti, lo potete notare nella parte alta dell'immagine, sono tracciate con questo segno nero che consente proprio di comprendere che cosa è stato distrutto e che cosa è stato modificato per la loro costruzione rispetto alla città antica. Ma vediamo gli spazi del borgo in modo che ci si possa orientare anche su questa mappa. Allora, qui in basso c'è la zona della piazza all'ora della legna, poi piazza Pontida, come sapete, risalendo poco oltre c'è la chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro in colonna, e poi ecco all'inizio dell'erta che sale verso la città alta, il convento benedettino di San Benedetto appunto, il convento femminile, anzi scusate, monastero femminile di San Benedetto, il portone cosiddetto del Matunno, che era una porta di epoca medievale, oggi non più esistente, nemmeno rintracciabile, un portone, una porta, che chiudeva, serrava la parte alta del borgo a protezione della città, della parte alta del borgo e del convento domenicano. Infatti si innestava da un lato sulle muraine a sinistra e a destra sulla fortificazione medievale che era stata estesa per proteggere appunto il convento domenicano che stava su quel poggio. Infine in alto, come dire, il tratto terminale del borgo che era così separato dal resto delle abitazioni, era così caratteristico proprio per connotazioni anche per attività degli abitanti, che veniva chiamato paesetto. Vediamo meglio in questo ingrandimento, ecco, vedete, scorgiamo molto bene il portone del Matunno, il gruppo di case che costeggiavano la strada che saliva verso l'antica porta di accesso alla città, la porta antica di San Giacomo, che era molto distante, in collocazione del tutto diversa rispetto a quella attuale di San Giacomo. era collocata, grosso modo, dove oggi c'è il bastione di San Giacomo. Bene, tutto questo quartiere viene completamente distrutto e alterato dalla costruzione delle mura proprio a partire dal convento domenicano di Santo Stefano e Domenico. ed ecco perché la vicinia che comprendeva abitazioni intorno a questo convento veniva detta vicinia di Santo Stefano, appunto. In alcuni casi viene indicata anche come vicinia di San Giacomo in relazione alla chiesa di San Giacomo che viene distrutta proprio per far posto alle mura veneziane nei pressi dell'attuale porta San Giacomo. Bene, il convento domenicano viene raso al suolo letteralmente facendolo collassare con delle esplosioni sotterranee nel novembre del 1561, a pochi mesi dall'inizio dell'attività di demolizione per dare inizio alla costruzione delle mura bastionate. L'esercito dello Sforza Pallavicino inviato da Venezia infatti, come dire, non recede di fronte alle giuste rimostranze della comunità domenicana. Tra l'altro, proprio nello stesso periodo, gli agostiniani del convento di Sant'Agostino erano riusciti ad ottenere, di evitare la demolizione del loro complesso accettando di pagare a proprie spese l'ampiamento, l'allungamento del tragitto delle mura in modo da comprendere all'interno del percorso delle nuove mura i propri spazi. Non sono riuscita ad ottenere altrettanto i domenicani, anche se immaginiamo che abbiano messo in campo risorse importanti. Il motivo era dovuto al fatto che la posizione del convento di Santo Stefano era una posizione strategicamente molto pericolosa per le mura perché il convento sorgeva su quello che ancora oggi è un poggio elevato rispetto al contesto circostante e quindi, pur essendo a una discreta distanza dalla cortina muraria, se fosse stato occupato questo convento da un nemico, il convento stesso avrebbe potuto costituire un caposaldo pericoloso nei confronti delle mura e quindi della città ed ecco perché viene completamente raso al suolo. Come fosse questa chiesa, come fosse questo convento non lo sappiamo. In realtà abbiamo, come dire, un'ipotesi di immagine, insomma un'ipotesi di aspetto grazie a questo dipinto di Andrea Previtali che è stato realizzato intorno al 1520 che è di proprietà della Banca Popolare di Bergamo e che probabilmente era stato commissionato da una delle monache domenicane del convento di Santa Lucia poi in qualche modo finito nel convento di Santa Marta insomma non è chiaro la vicenda collezionistica di questa immagine ma essendo come vedete San Domenico il santo che offre la chiesa alla Vergine è probabile che questa chiesa che ha un aspetto un po' generico di edificio gotico facesse riferimento all'aspetto della chiesa di Santo Stefano sul poggio del borgo nella parte alta. Ecco questa piantina che abbiamo già visto in numerose occasioni e che risale al 1816 ci mostra nella sua estrema semplicità quale fosse la situazione del borgo nella parte alta a quella data e quindi possiamo immaginare che molto simile anzi addirittura di un maggiore diradamento probabilmente delle case si può parlare per l'epoca che invece a noi interessa come vedete il poggio di Santo Stefano è stato completamente raso al suolo e un piccolo direi piccolissimo gruppo di case costituisce l'antico paesetto il luogo nel quale sorgerà la chiesa in questo caso era già presente ovviamente la chiesa di Santa Maria del Giglio ed ecco una immagine invece settecentesca della parte alta del borgo Sant'Alessandro vi ricordo che allora il borgo si chiamava San Leonardo con l'immagine appunto già della nostra chiesa costruita che però vorrei mostrarvi con un'immagine appena un pochino più chiara quindi abbiamo molto ben evidenziata la porta San Giacomo la discesa dalla porta San Giacomo verso il borgo appunto e la nostra chiesa costruita sulla sinistra Santa Maria del Giglio ma non è questo ancora l'elemento che vorrei osservare con voi ce n'è un altro più interessante nel frattempo osservate anche la spianata dove sorgeva il convento di San Domenico oggi lì è costruita una villa toccentesca piuttosto importante chiamata il Fortino bene ecco finalmente un'immagine che si può leggere meglio nella porzione di questa la porzione di questa immagine che vorrei che voi osservaste è questa riguarda questa piccola santella la stampa è del 1700 e quindi probabilmente la santella è stata molto trasformata nel tempo ma è proprio da questa santella che parte la storia della nostra chiesa infatti succede che nel 1659 siamo nell'agosto di quell'anno una parte degli abitanti del borgo della zona che si trovava a transitare davanti a questa santella si accorge che i gigli che erano stati messi a devozione davanti all'immagine della Vergine che si trovava all'interno appunto del piccolo spazio devozionale appassiti ormai da tempo avevano germogliato nuovamente neanche a dirlo si grida subito al miracolo ora l'attenzione che il pubblico e i devoti della zona dedicano a questa santella si spiega in relazione al fatto che da tempo ormai quasi da un secolo erano stati privati di luoghi di culto comodi facilmente raggiungibili infatti da una parte dovevano salire ed entrare all'interno delle mura nella Bergamo Alta per raggiungere gli edifici religiosi ricostruiti ma la loro chiesa parrocchiale dopo la distruzione della chiesa di San Giacomo e della chiesa di Santo Stefano Domenicana era la parrocchia di Sant'Alessandro in colonna ed era, voi lo capite, davvero difficile per le persone anziane e per i bambini arrivare per la pratica religiosa fino a quella chiesa quindi questa santella era diventata davvero un punto importante di, come dire, di devozione anche se volete di comunità ecco perché l'attenzione condotta su quei fiori miracolo, miracolo il vicario del vescovo manda subito informato vi manda subito qualcuno a prendere questi fiori e fa chiudere con delle assi di legno la santella stessa i fiori vengono affidati ad un botanico ad un professore di botanica il quale dichiara sotto la sua responsabilità non di miracolo trattarsi ma semplicemente di un fenomeno molto frequente in realtà i gambi di questi fiori erano ancora verdi anche se le foglie e i fiori stessi le florescenze si erano nel frattempo seccate e che quindi era piuttosto normale che potessero esserci la fioritura di gemme che ancora non si erano aperte nessun miracolo quindi ma facile a dirsi per le persone colte più difficile per il popolo il quale incomincia ad affluire all'esterno di questa santella chiusa peraltro per volontà del vicario vescovile e a distanza di pochi giorni dall'avvento considerato miracoloso della fioritura una ragazzina di 12 anni che era gravemente meno mata e si muoveva su stampelle presa probabilmente dall'emozione del concorso di folla eccetera abbandona la stampella e pura fatica dicono le cronache e si alza e cammina figuriamoci subito in città corre voce dell'avvenuto miracolo le stampelle vengono affisse sulle assi che chiudono la santella la bambina viene subito convocata dal vicario vescovile per interrogarla e sappiamo che in realtà viene riconosciuta come ha fatto una farsa guarigione in realtà la bambina si era autosuggestionata e quindi si ribadisce il fatto che assolutamente non si è trattato di un miracolo e nessun evento miracoloso può essere collegato alla santella ma ormai rassegnati ad accettare questa conclusione così poco appagante gli abitanti del luogo approfittano dell'attenzione che in città si è concentrata su di loro per rivolgere al vescovo direttamente questa volta il vescovo è Gregorio Barbarigo una petizione una richiesta di poter costruire una chiesa a servizio della propria comunità il vescovo si dichiara anche velocemente d'accordo infatti la richiesta della fine del 1659 già nel marzo del 1660 Gregorio Barbarigo concede la costruzione della chiesa la velocità è dovuta al fatto che nel giro di pochi giorni si raccolgono una grandissima quantità di elemosine di donazioni per questa santella tanto che si deve istituire una commissione con tanto di sindaci cancellieri tesorieri per poter conservare questo patrimonio e così si dà inizio alla costruzione della chiesa che per volontà del vescovo deve essere intitolata a Santa Maria nascente alla nascita della venina ecco il vescovo San Gregorio Barbarigo segue con attenzione le vicende costruttive la chiesa viene edificata in realtà molto 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 in fretta dicevamo marzo 1660 viene dato il permesso alla fine dell'anno nel dicembre di quell'anno già la commissione che si sarebbe trasformata poi nel luogo pio della chiesa cioè nell'associazione destinata ad amministrare la chiesa questa luogo pio questa associazione si può riunire già all'interno della chiesa quindi nel giro di pochi mesi almeno la struttura architettonica dell'edificio che non sappiamo chi sia stata progettata viene innalzato il barbarigo sorveglia molto l'andamento delle cose controlla soprattutto preoccupato dell'aspetto di controllo economico e vuole assolutamente ottiene che 11 famiglie della comunità si impegnino a versare ogni anno una quota stabilita per il mantenimento della chiesa stessa insomma il vescovo che è una persona come sapete molto illuminata di grande intelligenza non vuole che una chiesa costruita sulla scorta dell'entusiasmo poi possa finire dimenticata e trascurata ed ecco questo è l'aspetto che la chiesa assumerà nell'arco di pochi anni se nel 1660 già la parte architettonica era conclusa il portichetto terminale che era proprio l'ultima cosa che si costruiva davanti a una chiesa è del 1665 quindi davvero un arco di tempo molto breve vedremo anche che la decorazione interna almeno quella presbiteriale davvero è stata realizzata con grande velocità ma la velocità è determinata proprio anche dal fatto che si raccolgono grande quantità di denaro intorno a questo ambiente in questa occasione pensate che solo nel 1662 il luogo pio della madonna del giglio cioè questa questa comunità questa direi meglio questa organizzazione per la gestione della chiesa può permettersi di prestare denaro all'ospedale di san marco e alla misericordia maggiore quindi davvero un luogo sul quale era anche necessario vigilare per esempio il vescovo che succederà a barbarigo imporrà che le cassettine della raccolta dell'elemosina che avevano una chiave naturalmente vengano protette dal possibili furti non di estranei ma dagli stessi sindaci e amministratori del luogo pio tanto vero che si stabilisce una molto complessa gestione di queste chiavi che potevano essere utilizzate solo nella presenza di un numero rilevante dei membri del consiglio di amministrazione insomma davvero una cosa molto complicata e se volete anche molto molto prosaica ecco questa invece è una dei dispacci ancora di Gregorio barbarigo il quale impone al luogo pio cioè commissari e sindaci che amministravano la chiesa di portare all'interno della chiesa l'immagine della Madonna col bambino che era nella santella il vescovo non vuole che si moltiplichi o si possa generare una devozione parallela rispetto a quello della chiesa ormai costruita infatti anche se con un po' di tergiversazioni da parte del luogo pio finalmente nel 1664 l'immagine molto rimaneggiata come vedete molto ridipinta viene strappata staccata anzi a massello dalla santella e portata sull'altare maggiore della chiesa con una bella altare che viene concepito per quell'occasione ed ecco comincia quindi la vita di questa comunità e di questa chiesa in particolare una vita da un punto di vista religioso molto molto intensa se infatti all'inizio della storia della piccola chiesa si stabilisce di stipendiare solo un sagrestano e un cappellano per la celebrazione di una messa quotidiana nel giro di pochi anni ci sarà un sagrestano e un vice sagrestano e ci saranno ben tre cappellani per le messe quotidiane feriali quindi tre messe ogni giorno della settimana e un cappellano per le messe domenicali davvero oggi inimmaginabile insomma una 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 affluenza così significativa ma non dobbiamo dimenticare che per esempio gli appartenenti alle confraternite anche all'interno di questa chiesa trovava posto una confraternite avevano per esempio l'obbligo di frequentare giornalmente la chiesa di riferimento per assistere alla messa dicevamo del portichetto che viene innalzato nel 1665 a distanza di pochissimi anni dal completamento della chiesa vedete la chiesa era un elegante chiesa con paraste che pur nella semplicità insomma di un edificio di modeste dimensioni rileva una certa intenzione di nobilitare edificio stesso da parte dei responsabili interventi poi verranno fatti anche nel corso del Settecento per ulteriormente ingentilire questa facciata nel Settecento infatti Giuseppe Orelli viene incaricato di realizzare un piccolo ovale con angeli vedete che sta proprio sotto il portichetto della chiesa all'interno purtroppo sono immagini in bianco e nero ecco l'altare che contiene l'immagine della Santella che era stata all'origine della costruzione della chiesa un altare elaborato poi nel corso del Settecento ad opera del Manni tutta la zona presbiteriale presenta una decorazione ad affresco realizzata da un pittore ticinese che si chiamava Carpoforo Tencalla purtroppo i due angioloni in gesso che vedete stanno distesi in modo anche un po' impacciato sopra il timpano della cornice dell'altare ci nascondono in parte la lettura del più bello del più rappresentativo fra tutti gli affreschi di quell'area comunque dicevo Carpoforo Tencalla pittore ticinese viene chiamato nel 1662 a Bergamo dal marchese Luigi III che gli affida l'incarico di affrescare una delle sale del suo palazzo in Bergamo Alta insieme al terzi anche il solza saranno committenti in quel periodo del Carpoforo Tencalla probabilmente il pittore ticinese era venuto in città sperando di lucrare una commissione importante di affreschi all'interno della basilica di Santa Maria Maggiore dove i rettori della misericordia stavano decidendo a chi affidare le decorazioni della parte sinistra del transetto che poi andranno a Ciroferri come sapete Tencalla nutriva fiducia di ottenere questo incarico perché i suoi committenti bergamaschi terzi e solza erano entrambi rettori della misericordia ma insomma purtroppo l'impresa non gli riesce malgrado il fatto che gli affreschi che realizza entro il 1664 quindi proprio all'indomani della costruzione del piccolo edificio di Santa Maria del Giglio dicevo questi affreschi devono essere stati da lui pensati proprio in relazione alla possibile commissione in Santa Maria Maggiore e infatti il tema che viene trattato è quello delle storie della Vergine ed eccolo qui lo vediamo più da vicino la principale tra le immagini realizzate dal Tenkalla che è un pittore interessante lui si era formato naturalmente in prima battuta nel canton ticino lui era originario di Bissone ma poi come spesso avveniva in quel periodo per gli artisti ticinesi si era trasferito precocemente a Milano dove era stato probabilmente a bottega del Nuvolone di Carlo Nuvolone e quindi proprio dall'area milanese viene questo gusto per da un lato la rappresentazione leggiadra soffice e molto dinamica delle figure e dall'altra anche invece la concretezza realistica degli oggetti il peso volumetrico delle figure e così via le altre opere della Tenkalla purtroppo sono molto rovinate come vedete e si tratta di medaglioni o ovali che hanno come tema le storie della Vergine naturalmente a sinistra intravediamo una presentazione al Tempio e a destra invece la visitazione della Vergine l'elemento interessante rappresentato dai quadroni da questi da queste immagini è data dalla presenza di figure in primo piano che fungono da mediatori prospettici tra lo spazio della Chiesa e quello della rappresentazione sono figure vedete rappresentate con un accentuato realismo ecco lo vediamo un pochino più da vicino questa figura di San Giuseppe è davvero molto lombarda ecco nella sua costruzione per quanto riguarda gli angioletti dell'ovale non avendo le immagini a colore vi propongo questa direi analoga immagine del Tencalla che ha realizzato per una chiesa di Lugano che almeno sono riuscita ad avere a colori così come per immaginare insomma in questa fase in cui non è possibile entrare nella chiesa le cromie del racconto delle storie della Vergine può essere utile confrontarle con l'affresco che il Tencalla aveva realizzato a Palazzo Terzi con le immagini dell'Aurora ecco vedete che ritroviamo la stessa solidità di impianto plastico una buona costruzione anatomica e quest'idea di utilizzare la gamba e il piede che sporgono come elemento di struttura prospetica insomma mi sembra un confronto interessante ancora molto rovinati gli altri episodi della Vergine l'assunzione con un disegno al centro preparatorio che oggi è conservato alla Carrara e l'incoronazione della Vergine ecco questa è una visione allargata dell'interno dell'edificio come vedete a pianta longitudinale e a navata unica all'inizio del 1700 un artista che era proprio appartenente alla vicina della chiesa quindi sicuramente è stato anche un membro importante del luogo Pio insieme al fratello e cioè Marco Olmo all'inizio del 1700 ha realizzato le quattro grandi tele che decorano due sotto e due sopra si tratta di quattro tele centinate lo spazio della navata della chiesa e occupano direi proprio tutto lo spazio in modo molto prepotente per immagini anche se si tratta di immagini molto addolcite dalla particolare cromia che utilizza l'olmo in questo caso in particolare la più interessante la più bella tra le immagini che lui realizza che sono tutte scene della storia della Vergine che vanno a completare il ciclo che era stato già di una sessantina di anni prima realizzato ad Altencalla con le scene della nascita della Vergine il transito di San Giuseppe la nascita del bambino l'educazione la sacra famiglia insomma l'educazione di Gesù come vedete in questo in questo particolare bene oggi purtroppo la chiesa ha perso non solo naturalmente la funzione originale di riferimento proprio sacro che aveva per la comunità è aperta raramente e anche se ancora celebrata insomma le occasioni di poterla frequentare sono decisamente minori ma soprattutto mi sembra che questa fotografia sia emblematica è molto trascurata dagli abitanti e da chi arriva in questa zona della città che non si come dire non rinuncia proprio almeno a lasciare le proprie automobili parcheggiate davanti e questo è proprio indizio di un'assoluta indifferenza nei confronti dei beni culturali se non della dimensione religiosa insomma degli edifici che io trovo insopportabile scendiamo lungo il borgo di Sant'Alessandro avviandoci verso la parte più abitata già in epoca passata più abitata e incontriamo lungo il nostro percorso una piccola chiesa oggi sconsacrata da tempo dedicata a San Carlo la chiesa sorge in una zona molto vicina al punto in cui si trovava quel portone di epoca medievale al quale accennavamo all'inizio della lezione e dal momento della costruzione dell'edificio che risale inizio in 1600 quella zona viene detta della porta di San Carlo perché la chiesa viene proprio dedicata a San Carlo ed eccolo qui lo vediamo meglio può sfuggire al passante se non nota il piccolo campanile il fatto che siamo davanti a un piccolo edificio religioso edificato nel primo quarto del 1600 in occasione della nascita della costituzione di un'istituzione caritatevole voluta dai cittadini della città e in particolare del borgo a vantaggio dei poveri mendicanti nel 1613 infatti viene costituito questo consorzio che doveva occuparsi proprio degli ultimi derelitti della città quelli che non avevano proprio modo di sostenerse e di mangiare i primi ospiti i primi assistiti di questa istituzione caritatevole vengono alloggiati appunto siamo nel 1613 in una casa affittata allo scopo in via San Lazzaro nei pressi della chiesa di San Lazzaro ma pochi anni dopo già nel 1617 essendosi dimostrati quegli ambienti non adatti la comunità viene trasferita nello spazio accanto alla piccola chiesa costruita per l'occasione e qui questa istituzione caritatevole avrà una vita lunga nel tempo si trattava appunto di un'istituzione dedicata a San Carlo Borromeo voluta dai cittadini della città e che non avrà uno statuto ufficiale riconosciuto cioè da Venezia se non nel 1750 quindi per molti molto tempo per oltre un secolo si è amministrata autonomamente quando poi nel 1750 interviene Venezia dice esplicitamente che la chiesa non dovrà aver nessun la chiesa e soprattutto l'istituzione caritatevole non dovrà subire nessun tipo di influenza da parte del vescovo se non di tipo pastorale è interessante e ve lo faccio notare questo punto perché sta a ricordarci come Venezia costantemente abbia voluto tenere distinta le parti relative all'amministrazione dello Stato e l'amministrazione delle vicende legate ai sudditi da quelle di carattere spirituale insomma tenere separata il controllo vescovile da quello civile chi veniva accolto dicevamo in questo luogo e quindi faceva riferimento alla piccola cappella costruita accanto per statuto venivano accolte 60 mendicanti 30 adulti e 30 bambini così divisi 15 uomini al di sopra dei 60 anni 15 donne al di sopra dei 50 anni i bambini venivano accolti piccolissimi fino ai 12 anni e una volta compiuti i 12 anni venivano i maschi affidati a qualche artigiano a bottega le femmine invece messe presso le famiglie della città a servizio ed era specificato proprio che le bambine venissero collocate presso famiglie cittadine e non dei territori esterni alla città perché fosse più facile tenerle sotto controllo infatti uno dei compiti dei rettori dell'istituzione era proprio quello di verificare che le bambine non subissero abusi nel contesto in cui venivano collocate da parte loro invece i maschietti venivano messi a bottega e nel momento in cui incominciavano a guadagnare qualcosa una piccola parte era lasciata loro per la loro sopravvivenza e il resto doveva finire fino al compimento della maggiore età a sostegno dei mendicanti ancora ospitati nell'istituzione ecco qui la vediamo la chiesa un po' più da vicino mentre accanto è ancora riconoscibile anche se naturalmente completamente trasformato ed edificio che serviva come ospizio per i mendicanti l'istituzione viene soppressa come molte altre analoghe nel 1810 in età napoleonica e gli edifici e la chiesa vengono messi all'asta nessuno però li acquista e quindi a distanza di pochi anni nel 1817 siamo già però in epoca austriaca questi spazi vengono concessi a Don Carlo Botta il quale si prodiga proprio nell'assistenza dei bambini abbandonati dei bambini più poveri della città che inizia a raccogliere in questo spazio che diventerà quindi il cuore di quelle istituzioni caritatevoli Carlo Botta che sappiamo essere ancora operanti in città oggi però è da molto tempo la chiesa è stata sconsacrata all'interno ha ospitato uno studio fotografico adesso non so se ci sono degli architetti forse uno studio di architetti queste sono le uniche immagini che ho ritrovato non è possibile accedere si tratta di uno spazio privato e sono state realizzate all'atto dei restauri fatti di questo edificio ecco l'unica cosa notevole documentata della chiesa sono gli affreschi della zona dell'altare e del sì la zona presbiteriale scusate che sono stati realizzati da Giulio Quaglio ecco quindi pittore settecentesco ma arriviamo all'ultimo luogo del quale vorrei oggi concentrarmi con voi e ho scelto per introdurlo questa fotografia molto famosa di Beppi Merisio scattata nel 1963 quando la comunità di suore di monache benedettine ha consentito al nostro fotografo di documentarne la vita ho scelto questa immagine perché mi sembrava interessante per diversi motivi innanzitutto per come dire creare il contesto nel quale si muoverà la nostra osservazione il monastero di San Benedetto è tuttora luogo di clausura naturalmente il numero delle monache di clausura rispetto alla fotografia del Merisio è straordinariamente diminuito e questo è il primo punto cioè c'è stato un grande cambiamento insomma nella società in questi anni e l'altro elemento di interesse è rappresentato dal particolare splendore di questo luogo che è la sala capitolare del monastero quindi stiamo parlando di un monastero di clausura femminile di clausura benedettina caratterizzato nei secoli da un alternarsi di vicende costruttive decorative davvero molto interessanti peccato che al momento tutti questi luoghi o gran parte di questi luoghi ad esclusione della di un piccolo chiostro e della chiesa siano esclusi al pubblico ecco questo è come appare oggi la sala capitolare della 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 comunità ecco questa dall'alto è un'immagine che ci dà un'idea dell'estensione del monastero come vedete il monastero è caratterizzato da un chiostro grande questo tetto scuro grigio è una tettoia che è stata realizzata negli anni 90 per proteggere il chiostro piccolo che ha anche degli affreschi interessanti della fine del 1500 c'è un cortile soprattutto c'è questo enorme spazio di orti e di giardino che nel cuore della città moderna costituisce davvero uno straordinario privilegio per questo per questo monastero il monastero nasce così come lo conosciamo noi oggi solo nella seconda metà del 1400 quando si uniscono e confluiscono in un'unica comunità monache benedettine proveniente da contesti tra loro diversi il primo nucleo di monache che qui si insediano era quello delle benedettine di santa maria novella di stezzano che già nel probabilmente nel corso del dodicesimo secolo vengono in città e costruiscono qui la loro cappella e il loro piccolo convento nel corso sempre del tra il 1300 e il 1400 si vengono unite alla comunità di santa maria novella anche le monache del monastero di valmarina sotto la ramera oggi praticamente in città allora collocato in una zona giudicata pericolosa soprattutto in considerazione del fatto che si trattava di monache di donne tra l'altro l'aspetto dell'antico monastero probabilmente fondato nell'undicesimo secolo in valmarina e dopo l'abbandono delle monache è diventato poi una fattoria come sapete così chiuso no pur non alludendo ad una struttura fortificata come a lungo si è detto comunque ci dice della necessità di protezione che in un ambiente di boschi isolato richiedeva uno spazio che occupa occupato da donne quindi volenti o nolenti le monache di valmarina vengono trasferite qui nel borgo di san leonardo e associate alla comunità di santa maria novella non devono essere andate molto bene le cose all'inizio le due comunità tendono un pochino ad affermare ognuna la propria prevalenza sull'altra ma insomma fatto sta che alla fine insomma il nome che viene dato alla comunità è quello di san benedetto e vengono inglobate poi progressivamente altre comunità di monache benedettine che nel luogo di origine erano venute troppo depauperandosi di partecipanti per esempio è il caso delle monache del monastero di san fermo proprio come dire nella prima periferia della città le quali vengono obbligate da carlo borromeo quindi nel 1575 a lasciare il loro monastero periferico ed esposto e pericoloso fuori dalla cinta muraria per unirsi al gruppo delle monache di san benedetto sembra raccontano le cronache che le monache di san fermo si siano poste fieramente a questo trasferimento si siano letteralmente barricate all'interno del monastero erano rimaste in numero davvero esiguo le cronache ci dicono che non erano più di otto monache ma naturalmente per loro si trattava di perdere alcuni privilegi legati al fatto che doveva esserci una badessa e così via e soprattutto si perdeva il controllo dei beni annessi al monastero fatto sta che vengono con la forza letteralmente strappate dal loro monastero e portate nel nuovo monastero nel frattempo mentre appunto queste monache di san fermo quelle di santa giulia bonate e altri piccoli nuclei di benedettine venivano fatti confluire a Bergamo in san benedetto le monache del monastero decidono di costruire una nuova chiesa per la loro comunità ecco qui vedete il muro esterno del monastero tutto chiuso solo le buche pontaie praticamente si aprono verso l'esterno anche come dire l'allungarsi di questo muro ci dice dell'imponenza delle strutture interne del resto le monache erano davvero davvero molto numerose nel 1500 erano quando Carlo Borromeo visita il convento erano 48 monache che è un numero davvero strabiliante se pensate che poi c'erano le novizie le converse e quindi doveva trattarsi davvero di qualche centinaio di persone all'interno di questo spazio ma dicevo della chiesa appunto visto l'ampliarsi del numero delle monache soprattutto l'aumento delle ricchezze legate al monastero si costruisce un nuovo edificio un edificio di grande bellezza uno dei più importanti edifici rinascimentali in città largamente trascurato per la verità devo dire dallo sguardo dei bergamaschi è collocato lungo non l'ho specificato prima lungo il tracciato del borgo Sant'Alessandro all'angolo con via botta quella che noi chiamiamo via botta che era un percorso in realtà un tracciato già esistente all'inizio del cinquecento quando si decide di costruire la chiesa la chiesa ha una pianta centrale ed è un quadrato all'interno del quale è iscritta una croce greca e l'architetto che viene incaricato di realizzare l'edificio è l'isabello come sappiamo sempre un po' avviene in questo periodo la struttura dell'edificio è estremamente semplice ma anche di grande eleganza con queste paraste che definiscono i volumi delle facciate paraste che hanno i capitelli inclusi in quella cornice molto aggettante che ha lo scopo di rilevare di rendere come dire visibile riconoscibile la caratteristica unica dell'edificio per il viandante che passava lungo la via stretta e sopra questo poi questo cornicione aggettante si alzano i fastigi legati alle quattro ali della croce interna della chiesa all'interno la chiesa naturalmente molto rimaneggiata nel corso del tempo presenta la caratteristica tipica delle chiese di clausura e cioè un portico la cui costruzione viene imposta da Carlo Borromeo sopra il quale poter collocare il coro il cosiddetto coro delle monache cioè il luogo nel quale si collocavano le monache per assistere alla liturgia senza essere viste quello che vediamo quello che abbiamo davanti agli occhi è una visione laterale della chiesa vedete su uno degli altari laterali è collocata questa bella tela di Lucano da Imola che è un pittore cinquecentesco piuttosto interessante che si è formato nel contesto della cultura figurativa padana e veneziana vedete una madonna con bambino e santi che riecheggia molto anche i modi dell'otto ma dicevamo del coro delle monache che qui vedete in una fotografia del merisio appunto del 1963 oggi il coro non è più utilizzato a questo scopo le monache assistono alla liturgia all'interno del presbiterio e sono in comunicazione diretta quindi con i devoti laici che partecipano al rito la cosa che mi colpisce molto di questa immagine direi davvero emblematica e che è percepibile forse la sensibilità dei nostri tempi è il fatto che queste monache potrebbero essere delle donne velate islamiche no? non c'è direi differenza a questo riguardo è una riflessione piuttosto interessante che potremmo fare ed ecco la zona del presbiterio che è stata molto rimaneggiata all'inizio dell'Ottocento con quest'altare affidato Giacomo Bianconi l'architetto neoclassico che ha operato in città vi ricordo non solo il rinnovamento a lui affidato dell'ospizio di mendicità nel largo Porta Nuova che oggi è la sede del credito bergamasco ma anche soprattutto la scuola di Contrada Tre Passi in via Tasso che è stato proprio tutto progettato da lui bene quest'altare neoclassico contiene la copia di una assunta che lì era stata collocata ed è rimasta per secoli fino a quando con le soppressioni napoleoniche anche il monastero delle monache di San Benedetto viene soppresso le opere importanti contenute nel monastero vengono trasferite a Brera e infatti quella che noi vediamo sull'altare è una copia del dipinto cinquecentesco realizzato intorno al 1570 da Giovanni Battista Moroni si tratta di un'opera molto bella molto affascinante che Moroni ha realizzato sulla scorta di un modello che gli era molto presente sappiamo che Moroni ha citato spesso e si è ispirato direttamente all'opera del suo maestro Moretto di Brescia diceva un'opera molto interessante quella di Moroni che rispondeva perfettamente alle esigenze di culto e di venerazione dell'epoca controriformata quindi una netta separazione tra la parte terrena degli apostoli che stupiti guardano l'ascesa della Vergine al cielo e la parte vera e propria divina con questa luce antinaturale non naturale gialla sullo sfondo che vuole appunto sottolineare la diversa valenza dei due spazi spazi che però sono come già Moretto aveva così ideato fra loro in relazione in virtù di una luce comune che illumina sia la parte terrena sia la parte divina dell'immagine ma io vorrei mostrarvi più da vicino soprattutto la parte relativa agli apostoli con questi bei ritratti così fisionomici così realistici da parte di Moroni e la qualità sempre molto alta della sua pittura a imitazione della materia delle stoffe della morbidezza delle barbe e così via insomma vero pittore che guarda con grande accuratezza grande attenzione alla realtà ecco questa è un'altra opera molto importante è conservata all'interno della chiesa sulla sinistra dell'altare principale una cappella a sinistra dell'altare principale ed è un'opera del Cavagna firmata e datata 1621 nella quale vengono rappresentati insomma che è dedicata diciamo meglio ai santi fermo rustico e procolo che vediamo nella fascia intermedia della rappresentazione che è divisa in tre settori orizzontali i tre santi secondo la migliore organizzazione dell'immagine di tradizione tridentina si rivolgono alle figure divine o meglio alle figure celesti della Madonna col bambino San Benedetto e la sorella di San Benedetto e implorano naturalmente misericordia sono intercessori di grazia nei confronti degli uomini e dei viventi viventi e uomini che sono rappresentati nella parte bassa dell'immagine con grande realismo e queste figure rappresentate per lo più di spalle che quindi utilizzano l'espediente già visto in altre occasioni che è tipico dei pittori già a partire dall'inizio del 1500 e che proponendo di spalle alcuni protagonisti dell'immagine coinvolgono direttamente l'osservatore nella scena perché se osserviamo una figura di spalle noi stiamo immediatamente dietro quindi siamo lì anche noi in un modo molto intelligente proprio di risucchiare il visitatore all'interno della scena narrata dicevo questo questi contemporanei di Cavagna assistono attraverso la balaustra ad un miracolo il miracolo è quello del liquido che trasudava dalle reliquie dei santi fermo rustico e procolo conservate in un sarcofago antico dal quale credo una volta l'anno fuoriusciva del liquido probabilmente risaliva da qualche fontanile insomma non so comunque questo liquido veniva considerato miracoloso e quindi distribuito dove necessario il miracolo avveniva nel convento anzi scusate nel monastero di San Fermo quello delle monache che erano state trasportate per forza in San Benedetto e quindi è probabile che la commissione al Cavagna che era un pittore del borgo che viveva nel borgo sia determinata proprio da questo legame forte tra il monastero di San Benedetto e le reliquie dei tre santi che nel frattempo erano state portate nel duomo che poi diventerà di Sant'Alessandro in Città Alta ecco nella parte bassa per tradizione la figura a sinistra che regge una delle ampolle nelle quali verrà riversata l'acqua miracolosa è giudicata e considerata tradizionalmente un autoritratto di Cavagna anche se è più probabile che si tratti del ritratto di uno dei committenti o comunque di uno dei tramiti tra le monache e il Cavagna stesso è piuttosto suggestiva questa quest'idea vi mostro poi anche se purtroppo l'ho dovuta prendere da un libro quindi l'immagine è piuttosto infelice ecco da vicino più da vicino il particolare della scena realistica perché è uno degli elementi di maggior interesse della raffigurazione proprio questa attenzione per il dettaglio di realtà per l'abbigliamento gli sguardi e anche questa interessante regia luminosa che prevede che le immagini dei due sacerdoti che attingono il liquido miracoloso dal sarcofago venga illuminata all'interno da una torcia la cupola della chiesa viene affrescata solo nel 1700 da Giuseppe Orelli con la gloria di San Benedetto e scene della vita benedettina vi mostro in particolare uno degli arconi con figure di santi benedettini che assistono alla gloria del fondatore questa invece purtroppo è una serie di immagini votive quattrocentesche della fine del 400 che non potremo vedere perché si trovano all'interno della sagrestia della chiesa che è assolutamente esclusa la frequentazione del pubblico ed è un peccato perché si tratta di un ciclo non è un ciclo narrativo ma è un ciclo di immagini votive piuttosto interessante è stato attribuito a Jacopino dei Scipionibus io personalmente ho qualche dubbio sull'attribuzione sicuramente comunque doveva trattarsi di un interessante artista collocato tra la fine del 400 e i primi anni del 1500 vedete i temi sono molto vari in alto abbiamo due sante martiri una santa margherita da una parte l'altra con il coltello non riesco a definirla invece a destra abbiamo la Madonna della Misericordia col mantello aperto un San Bernardino da Siena e un San Pietro Martire interessante la presenza dei due santi domenicani e francescani presenza che ritroviamo anche sotto con la concessione delle stimmate a San Francesco San Gerolamo la Madonna col bambino San Benedetto e un'altra santa forse una Santa Caterina d'Alessandria direi e infine San Giovanni Battista e Santo Stefano o San Lorenzo no San Lorenzo scusate questo ciclo di decorazione faceva parte della cappella originaria del monastero di Santa Maria Novella cioè delle prime monache benedettine che si sono insediate in questo punto costruita poi la chiesa cinquecentesca l'antica cappella è diventata spazio a servizio della nuova chiesa ecco chi ha la fortuna di poter entrare nella chiesa delle monache di San Benedetto ha la possibilità di entrare anche in questo piccolo chiostro che comunica direttamente con l'esterno con l'imborgo che è stato coperto in epoca recente proprio per proteggere la decorazione ad affreschi che lo caratterizza è un piccolo grazioso chiostro cinquecentesco porticato su tre lati nelle lunette ecco questa è un'immagine della copertura vedete molto elegante questo era il punto di comunicazione il filtro tra l'esterno e l'interno del convento quindi aveva una particolare nobiltà di struttura architettonica e dicevo le lunette che caratterizzano lo spazio interno del porticato e le crociere le piccole volte sono state affrescate da Cristoforo Baschenis il giovane nel 1597 nelle lunette sono collocate storie di San Benedetto mentre le crociere sono decorate vedete con grottesche Cristoforo Baschenis il giovane ormai l'ultimo epilogo epigono della vicenda della famiglia Baschenis nei suoi vari rami e vedete conserva tratti molto arcaizzanti di definizione della narrazione e anche un certo impaccio nel collocare le figure e le architetture in una struttura prospetica però nell'insieme le scene che rappresentano episodi della vita di San Benedetto questo racconta il miracolo di una come dire di una scure perduta in un ruscello da un da un soldato e recuperata dal santo altro luogo inaccessibile è il chiostro grande anch'esso un affascinante molto benvenuto come vedete edificio rinascimentale e insomma pur non essendoci niente di artistico insomma voglio farvi notare le estensioni le dimensioni anche dell'ortaglia delle monache che davvero occupano uno spazio incredibile nel contesto della città contemporanea questo è il parlatorio che vi faccio osservare perché davvero documenta ancora la rigidità della regola di clausura delle monache attuali le quali non hanno quasi contatti col mondo esterno a me è successo qualche volta di accompagnare gruppi in visita nel chiostrino e nella chiesa e tutte le volte naturalmente ho preso accordi telefonici prima sono gentilissime queste monache ma tutte le volte la chiave per entrare nella chiesa mi è stata passata attraverso l'antica ruota cioè io non ho visto in volto le monache non ho parlato con loro anche se ne avvertivamo la presenza perché naturalmente ci controllavano mentre stavamo all'interno della chiesa ecco questo della ruota attraverso il quale passare le chiave attraverso il quale passare la nostra offerta è davvero come dire una riminiscenza che ci riporta tempi molto molto lontani gli spazi sono enormi questo era l'antico refettorio oggi naturalmente non più utilizzato quando ancora le monache erano una cinquantina questo spazio era evidentemente necessario così come molto articolati e sempre molto ben tenuti sono i corridoi delle celle delle monache tra l'altro così è un'immagine che mi rievoca quella del convento di San Marco a Firenze davvero in modo molto suggestivo e questa ecco immagine conclusiva anche del nostro percorso è una delle ultime fotografie della comunità purtroppo alcune delle monache che vedete sono nel frattempo mancate l'abbadessa è la monaca relativamente giovane che sta al centro dell'immagine bene ho concluso quindi qui la mia lezione vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a seguire anche la prossima di San Marco